spesso uno pensa che la lazio ha vinto lo scudetto nel 2000 perché era la squadra più forte in italia sicuramente era se non la più forte una dei più forti ma il vero motivo per cui la lazio ha vinto quello scudetto è perché c'era in squadra 3 4 giocatori che volevano sempre sempre vincere e uno di questi era one sebastian veron ciao a tutti da vittorio oggi è il compleanno di one sebastian veron e quindi prendo lo spunto per fare questo video la cosa di iscriversi al canale cliccare il bottone eccetera ormai la sapete tutti non la ripeto un'altra volta ok perché molti di voi nelle dirette eccetera mi dicono quale giocatore di questa lazio giocherebbe nella lazio dello scudetto a luiz alberto giocherebbe nella lazio dello scudetto secondo me no secondo me no perché luiz alberto è un ottimo giocatore grande qualità ma nel calcio la qualità non basta nel calcio bisogna avere anche carattere determinazione voglia di vincere e la lazio dello scudetto ha vinto lo scudetto in maniera incredibile rimonta clamorosa eccetera perché in quel gruppo c'era una serie di giocatori che erano dei vincenti giocatori che volevano vincere sempre anche quando giocavano nella partitella infrasettimanale loro volevano vincere sempre penso a roberto mancini penso a diego simeone penso a one sebastian veron sven ben goran ericsson l'allenatore dello scudetto di quella lazio del 2000 ha detto in una delle sue interviste che mi ha loic mancini veron semplicemente non accettavano di perdere per loro la sconfitta non era nel vocabolario non esisteva non si poteva perdere ecco questo è perché erano dei campioni io non so se la lazio abbia avuto un centrocampista più forte di one sebastian veron un giocatore che adesso diremmo moderno un giocatore completo veron aveva i piedi del trequartista e la determinazione di un mediano all'almeida veron era un giocatore che regalava fantasia ecco magari possiamo dire che luis alberto ha i sessi piedi di veron ma veron era un combattente veron era uno che nelle situazioni difficili usciva fuori con la qualità e con la voglia di vincere quello che per esempio non vedo in luisa alberto veron non solo faceva la giocata di classe ma veron lottava combatteva entrava in tegel scivolata se le cose andavano male si incavolava e provava a ribaltare la situazione ecco io adoravo veron e per questo non credo che si possa paragonare a luisa alberto quando luisa alberto dimostrerà di avere la tigna la determinazione di veron forse ne potremmo parlare ma ripeto uno dei motivi uno dei segreti di quella lazio sono proprio quei giocatori roberto mancini non mi piaceva come persona e non mi piace ancora però era uno che non voleva perdere mai mai diego simeone diego simeone era un vincente uno che veramente non aveva piedi fantastici però vai a vedere quante partite vinceva diego simeone stesso discorso con un sebastian veron veron secondo me era il non plus ultra perché non solo era bravissimo i piedi aveva grande qualità ma era un cagnaccio uno di quelli che ripeto ogni partita tu sapevi già che veron dava al massimo per vincere non per fare il gol lui o per decidere la partita lui veron non gli fregava se faceva tre gol due gol un gol o zero lui voleva vincere se poi la lazio vinceva grazie al suo assist o grazie al suo gol o magari grazie al recupero palla suo quello cambiava poco ecco questa è la grande differenza luisa alberto lo vediamo che adesso va sempre a cercare il gol veron invece magari ti decideva la partita lui come nel derby di ritorno del 2000 però era un giocatore secondo me che giocava per la squadra è per questo che quella lazio ha vinto lo scudetto e quella dell'anno prima che forse era ancora più forte non l'ha vinto perché mancava un sebastian veron mancava un diego simeone per cui ragazzi quando mi dite a milenco i savage o luis alberto giocherebbero titolari nella lazio del 2000 io non ne sono sicuro io non ne sono sicuro perché togliere un sebastian veron per mettere luisa alberto io non so quanti allenatori lo farebbero ripeto dal punto di vista tecnico possono essere simili però poi c'è il cuore il calcio non è solo tecnica e cuore e lotta e carattere e un sebastian veron aveva tutto aveva tutto anche il fisico che luisa alberto non aveva per farvi capire chi era veron c'è questo simpaticissimo aneddoto di mi aluic no mi aluic stava la lazio era lui quello che batteva le punizioni a un certo punto in allenamento arriva veron e dice a sinisa no voglio batterla io la punizione mi aluic lo guarda e dice io questo lo ammazzo come ti permetti a voler battere le punizioni le batto tutte io veron prese il pallone calciò e fece e prese l'incrocio dei pali e sinisa disse va bene allora ogni tanto li puoi battere anche tu le punizioni ecco questo è il carattere di quella lazio questa è perché veron era un giocatore assurdo e poi un'altra cosa veron sui calci d'angolo insegnava non è come luisa alberto che ne sono quattro anni che tira in porta da calcio d'angolo e non ha mai fatto un gol un sebastian veron non ne tirava tanti in porta però quando decideva quasi sempre faceva gol e poi c'è la grande tigna di un sebastian veron un giocatore fantastico oggi celebra il suo compleanno e è un giocatore che credo nei cuori di tutti i laziali della mia generazione avrà un posto speciale perché è stato decisivo nello scudetto con la qualità e con la voglia di vincere che purtroppo non vedo nella lazio di oggi che purtroppo in luce alberto e altri giocatori vedo ma non come quei giocatori dello scudetto ciao ciao Grazie a tutti.